ciao a tutti oggi prepareremo la crostata di mele con crema allo yogurt il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e 30 minuti circa ingredienti sono per la frolla farina di tipo doppio zero lievito burro sale uovo e tuorlo zucchero pasta di limone o la scorza cartuggiata di un limone per il ripieno alle mele mele taglia da pezzetti zucchero succo di limone e cannella per la crema allo yogurt albumi d'uovo vanillina zucchero a velo amido di mais yogurt bianco diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta preparando la frolla mettere il boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il burro l'uovo e il tuorlo la farina il sale la pasta di limone o la scorza grattugiata di un limone e il lievito ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 5 formare un panetto avvolgere nella pellicola trasparente e lasciare riposare in frigo per 30 minuti senza lavare il boccale mettere le mele il succo di limone la cannella e lo zucchero a velo ed azionare il bimbi per 8 minuti 90 gradi anti orario velocità soft mettere da parte abbiamo ripreso la frolla dal frigo e ne abbiamo tolto 200 grammi che ci servirà per la copertura adesso schiacciandola rivestiremo il fondo di una tortiera da 22 cm e anche facendo anche i laterali bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta mettere le mele e livellare bene abbiamo lavato e asciugato bene il boccale posizionare la farfalla sulle lame andremo a preparare la crema allo yogurt mettere nel boccale gli albumi ed azionare il bimbi senza il misurino per 5 minuti a velocità 4 dopo 3 minuti dal foro del coperchio aggiungeremo lo zucchero a velo 5 minuti velocità 4 trasferire gli albumi in una ciotola capiente aggiungere lo yogurt e amalgamare bene aggiungere l'amido di mais e la vanillina ed amalgamare bene versare sulle mele sbriciolare il resto della frolla su tutta la superficie cuocere in forno preriscaldato a 170 gradi per 40-45 minuti la torta è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo spolverizzare con zucchero a velo e servire crostata di mele con crema allo yogurt si conserva in frigo per due giorni grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti